Un nuovo tassello per l'aghezzo della nuova stagione. È stato raggiunto l'accordo con Mattia Corradi, 26 anni, centrocampista. Nella scorsa stagione ha militato nel Cuneo, nel Girone A di Lega Pro, con 32 presenze, tutte da titolare e due gol. Il centrocampista, Brianzolo di nascita, ha la sua esperienza più importante con l'Albino Leffe, società nella quale ha militato prima nel settore giovanile e poi per quattro stagioni in prima squadra, collezionando 67 presenze in serie C e 4 in serie B. Corradi si è legato all'aghezzo per un anno, con opzione per la stagione successiva. Gli Amaganto cercano intanto anche il colpo in attacco. Oltre ad Arma, di cui si era parlato la settimana scorsa, piacerebbe molto il 35enne Cellini, un vero e proprio cecchino del gol, che riesce quasi sempre ad andare in doppia cifra. Nelle ultime due stagioni ha segnato 17 reti con la maglia della Spal e 18 a Carrara. Anche lui è un ex Albino Leffe. Si attende intanto l'ufficialità anche dei criteri per la composizione dei nuovi gironi. Probabilmente si andrà verso una divisione Est-Ovest.